Eeeh, bella ragazzi qui sui libri ritrovati nel mio canale in questo nuovo video Oggi siamo qui ritornati con un video velocissimo Dove vi spiegherò come ottenere 400.000 dollari gratuitamente E l'officina Esatto, proprio quell'officina lì, la nuovissima officina Che è stata aggiunta con il DLC, lo Santos Tuners, fighissimo E per l'appunto, seguendo i tre step semplicissimi che vi andrò ad elencare adesso Otterrete ben 400.000 dollari Più la nuovissima auto-officina a Strawberry gratuitamente Ma prima di cominciare, come al solito, vi ricordo di lasciare un bel like Iscrivetevi al canale per non perdervi i futuri video E condividete il video con tutti i vostri amici Mi raccomando, fate queste piccole mansioni qui per aiutare YouTube a capire che questo canale vi piace E per supportare, ovviamente, il mio lavoro Detto ciò, che cosa dovrete fare? Per prima cosa dovrete registrarvi ad Amazon Prime tramite il link che trovate qua sotto nella descrizione Ovviamente, se avete già un account Amazon Prime, questo step lo potete saltare tranquillamente Ma qualora voi non abbiate un account con Amazon Prime Potrete tranquillamente riscattare la prova gratuita di 31 giorni tramite il link qui sotto Amazon Prime è necessario, altrimenti non potrete riscattare questi premi Nel caso in cui abbiate già riscattato la prova gratuita sul vostro account di Amazon Prime Create un altro account di Amazon Così facendo, conterà come nuovo account e avrete di nuovo la possibilità di riscattare la prova gratuita Se non vi interessa Amazon Prime, una volta che avrete ottenuto i premi in gioco Potete tranquillamente disdire Per disdire, basta semplicemente rimuovere i dati della vostra carta da Amazon Così facendo, non appena ci sarà il rinnovo Non potranno rinnovare, poiché non c'è una carta collegata E vi disattiveranno il vostro abbonamento Prime Ci tengo a specificare che tutto ciò ha un costo di 0€, poiché prova gratuita Seconda roba che dovete fare è collegare il vostro account Amazon all'account Twitch Vi lascio sempre il link qui sotto nella descrizione Comunque sì, è molto semplice Vi basta andare in impostazioni Dopo che avrete aperto le impostazioni dovrete cliccare sulla voce Prime Gaming A me non compare nulla perché ho già collegato il mio account Amazon a Twitch in precedenza Ma a voi uscirà fuori collega account Amazon o una roba del genere Ci cliccate, inserite i dati e si collega in automatico E già che siete su Twitch, se volete lasciatemi un follow e abbonatevi con il Prime Tanto è gratis, se lo farete, grazie mille Una volta che avrete collegato il vostro account di Amazon all'account di Twitch Vi basterà cliccare sul terzo ed ultimo link che trovate qua sotto nella descrizione Vi si aprirà la pagina di Prime Gaming per Grand Theft Auto Online E una volta che siete qui dovrete semplicemente cliccare su riscatta Una volta fatto ciò si aprirà una pagina Quindi andrete a collegare il vostro account Twitch al social club Poi cliccherete autorizza e si riscatterà Ed in automatico nel giro di 72 ore dovreste ricevere sul vostro account La possibilità di prendere per l'appunto l'officina a Strawberry gratuitamente E i 400.000 dollari Non so per quanto tempo durerà questo bonus L'unica cosa che vi posso dire è affrettatevi a farlo prima che lo vadano a togliere Credo che durerà forse due settimane Quindi non c'è molto tempo Sbrigatevi E cos'altro vi devo dire Diventate tutti meccanici con sto DLC Quindi ragazzi io spero che questo video rapido, veloce e informativo vi sia stato utile Se così fosse lasciate un bel like Commentate qui sotto per l'appunto nei commenti Iscrivetevi al canale Seguitemi su Instagram per non perdervi i futuri aggiornamenti E noi ci rivediamo con un prossimo video Bella raga Ciao